Abbracciami, ascoltami, io sono qui Corona il suo sogno la giovane cantante sulmonese Sofia Doria di 23 anni che ha realizzato il primo singolo dal titolo Abbracciami contenuto nell'album Fuori così come sono dentro l'incisione è stata curata da Onda Radio Record in collaborazione con l'Atti Studio di Sulmon il testo è stato scritto da due professionisti della musica italiana come Antonella Bucci e Mauro Mengali mentre la produzione è del papà Panfilo che la sta accompagnando in questo viaggio sin da piccolina cioè da quando aveva già cominciato a manifestare la passione per il canto Abbracciami, raggiungenti, se volo via Tra le importanti partecipazioni di Sofia Doria c'è quella al Festival di Castrocaro nel 2012 dove è riuscita ad arrivare tra le semifinaliste le sue attività si sono concentrate anche sulla danza, la recitazione del musical il videoclip del suo primo singolo, diffuso online su YouTube sta riscuotendo notevole successo per aver superato dall'8 luglio ad oggi le mille visualizzazioni una canzone che vuol significare il sincronismo naturale di un amore e la paura di felicità L'album contiene anche un altro singolo intitolato Raggiungerti scritto da Mauro Mengali e 11 cover L'intera compilation è disponibile su iTunes e su tante altre piattaforme Abbracciami, ascoltami, io sono qui